Non voltare le spalle alla tua salute. Basta un semplice controllo per ritrovare la tua serenità. Prenota la tua mammografia digitale con tomosintesi 3D, bassa dose di radiazioni, diagnosi più precise ed affidabili, maggior comfort durante l'esame. Per info e prenotazioni chiama a Clinic Center allo 081 766 1552 o visita cliniccenter.it